La politica sociale del Messico è eliminare, erradicare definitivamente la fame nel nostro paese e eliminare la pobreza estrema. Noi abbiamo 7 milioni di messicani che soffrono di fame e poverità estrema e la decisione del governo del Messico è fare tutto quanto sia necessario per eliminare e erradicare del mapa del Messico questi problemi.